Sono vicende che si ripetono nel tempo e in ogni angolo del mondo. Pagine di cronaca e di classici romanzi gialli se ne trovano in quantità. Ancora oggi le vicende legate alle eredità, ai testamenti e firme falsificate coinvolgono i tribunali con costante frequenza. Uno dei casi recenti ha coinvolto addirittura il presidente merito della Corte Costituzionale Cesare Ruperto che, dinanzi al conflitto tra i due testamenti che cambiano i destinatari di un'eredità, per provare la falsificazione delle firme, si è affidato agli esperti dell'Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valencia con un pool difensivo guidato dal criminologo clinico e rettore della facoltà Saverio Fortunato. Un incarico che rappresenta un autorevole riconoscimento dell'attendibilità dei professionisti che operano nell'Istituto di Criminologia Vibonese. Noi abbiamo avuto il privilegio e l'onore da parte del presidente merito della Corte Costituzionale di rivolgersi a noi per avere una tutela sia dal punto di vista peritale in primissima, anche come difesa legale e io ho coinvolto i docenti di procedura penale, l'avvocato Baroncini di Milano e poi quello di penale l'avvocato Malucchi del foro di Pistoia. È un riconoscimento importante anche del livello qualitativo che l'Istituto può offrire per vicende come questa? In questo caso se ci ha coinvolto il presidente merito della Corte Costituzionale noi non potevamo assolutamente sottrarci. È una grande fiducia che ha avuto in noi, è un grande onore, è un grande privilegio. Presumo che se lui ha fatto questa valutazione su di noi evidentemente speriamo di non deluderlo. Dal punto di vista legale la vicenda ha una sua complessità che può trovare uno sbocco attraverso queste perizie. Sì, le perizie sono alla base della vicenda perché ci offrono il materiale primario per poi rivolgere al pubblico ministero che è titolare dell'indagine penale in corso, diciamo la base per poter arrivare a un risultato che noi riteniamo e ospichiamo anche a breve termine. Ovviamente le perizie rappresentano anche la base delle indagini difensive che stiamo svolgendo perché noi sappiamo tutti che da poco tempo è possibile anche al difensore svolgere correlativamente al pubblico ministero delle indagini. È chiaro che l'aspetto peritale per noi è fondamentale, ci offre diciamo questo primo punto, questo primo gradino per poi rivolgersi al pubblico ministero dove già pende questa denuncia che trovava appunto lo spunto nella perizia redatta dall'Istituto.